Senatore, grande vittoria della Liga Nord, che cosa avete ottenuto? Sì, in vigilanza RAI abbiamo appena finito di trattare il contratto di servizio 2013-2016. Come Liga Nord abbiamo presentato una serie di emendamenti perché, diciamolo, questo contratto di servizio non ci convince più di tanto. Uno di questi emendamenti aveva lo scopo di abolire la trasmissione dei spot riguardanti il gioco d'azzardo. In RAI, su tutti i canali della RAI. Il nostro emendamento è stato approvato e di conseguenza, grazie a questo emendamento, riusciremo ad evitare o perlomeno a limitare quello scempio che è la ludopatia e quindi a evitare che la RAI, visto che offre un servizio pubblico, mandi in onda degli spot riguardanti le slot machine, i giochi online e tutto ciò che riguarda appunto questo brutto mondo delle ludopatie. Grazie appunto a questo emendamento le famiglie riusciranno a poter vedere la televisione un po' più tranquillamente soprattutto nelle ore riguardanti appunto la famiglia e i bambini. Penso che sia un grandissimo risultato perché questo emendamento arriva grazie a un bellissimo rapporto di collaborazione che c'è stato tra il gruppo dei senatori della Lega Nord e tutte le associazioni no slot riguardanti appunto, come dicevo, il mondo delle ludopatie. Penso che sia un bellissimo risultato e a questo punto voglio anche ringraziare tutti quei colleghi degli altri partiti politici che hanno votato a favore il nostro emendamento.